Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. All'Eur proseguono le operazioni per lo smontaggio delle strutture utilizzate per la gara di formula e questa sera dalle 20.30 per tutta la notte Viale delle Tre Fontane chiuderà da Viale dell'Agricoltura a Piazzale Barcellona. Saranno così deviate le linee 31 e 780. Intanto questa mattina è stato riaperto il capolinea bus in Piazzale dell'Agricoltura. Le altre notizie. Luglio, tempo di festa de Noantria a Trastevere. Sabato si svolgerà la processione da Largo de Mata alla chiesa di Sant'Agata lungo le strade del Rione dalle 18 alle 20. Già dalle 17.30 saranno deviate le linee 3, 8, H44, 75 e 115. Sempre sabato per uno spettacolo al Circo Massimo dalle 18 saranno chiuse Via dei Cerchi e Via della Ramassima di Ercole e saranno deviate le prime 5 linee alle quali domenica mattina sino alle 7 si aggiungeranno. altre tre linee. Nella notte tra sabato e domenica sarà deviata la notturna NMC. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.